Monesi una situazione difficile che tutti conosciamo ma parliamo del futuro. Cosa serve adesso? Servono tutte le iniziative che sono state leccate. Fino adesso se ne sono interessati la regione, la provincia e tutti gli enti, il comune di Mendatica. Logicamente noi ci auguriamo, siamo certi che alle promesse seguiranno i fatti perché se non seguiranno i fatti è chiaro che sarà un grosso problema. Noi stiamo guardando avanti, l'associazione che rappresento che aveva già approvato una serie di eventi per rallegrare i periodi di riposo estivi porta avanti questo discorso non potendo però già indicare le date esatte perché queste dipenderanno dal ripristino della viabilità. Una data certa l'abbiamo ed è domenica 25 giugno quando faremo la quarta edizione del pranzo di benvenuto al solstizio d'estate. In questa occasione ci sarà anche l'inaugurazione della nuova sede proprio per dare un segnale forte di volontà di continuare. L'inaugurazione della nuova sede dell'associazione Monesi Borgo Antico, sede che è stata messa gentilmente a disposizione gratuita da un socio, il geometra Giuseppe Ghiglione, costituirà un luogo di aggregazione, è molto importante, cambierà senz'altro in meglio la nostra presenza sul posto. Dopo i gravi danni alluvionali qualcuno ha parlato di Monesi come città fantasma, questo è sbagliato? Ma questo è diciamo che, sì è sbagliato, è un'idiozia perché è evidente che adesso ci sia l'interdizione, che ci sia un'ordinanza che impedisce di recarsi nelle nostre case perché sono pericolanti la maggior parte, una metà circa. Però parlare di paese fantasma no, è stata una cosa di cattivo gusto che ha dato molto fastidio a chi come me ha la Monesite, insomma chi ama questo posto, sentire dire che è un paese fantasma è veramente stato negativo da tutti i punti di vista, credo. Insomma c'è tanta voglia di rialzarsi e andare avanti. Esatto, parliamo di quello che c'è da fare d'ora in poi, ormai quello che doveva succedere è successo, non possiamo tornare indietro, se potessimo lo faremmo, ma non si può. Quindi guardiamo avanti, vediamo da che parte cominciare, ora c'è la neve, paradosso perché negli ultimi anni la neve è sempre arrivata molto tardi, quest'anno invece è arrivata puntuale, però manca tutto il resto. Però vabbè, affronteremo la situazione e vedremo di fare il massimo possibile.